In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Giuseppe, prima di entrare nel dettaglio delle previsioni meteo che caratterizzeranno in questo fine settimana, che cosa puoi dirci sulla situazione attuale del tempo? La nostra regione è interessata da un campo di alta pressione di natura oceanica, che determina condizioni di tempo ampiamente soleggiato con temperature gradevoli. Stante la componente delle correnti occidentali, nubi ad evoluzione diurna interessano le aree montuose, dove nel corso del pomeriggio non si esclude qualche isolato rovescio. Nel corso di questo fine settimana la pressione tenderà ad aumentare ulteriormente, grazie ad una nuova espansione del promontorio africano verso nord. Che cosa ci attende invece per le giornate di sabato 20 e domenica 21 luglio? Sia per sabato 20 che per domenica 21 luglio avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Qualche nube innocua potrebbe interessare le aree montuose ma in rapido dissolvimento serale. Temperature in lieve aumento con valori massimi che, sul Cilento, saranno comprese tra i 26-27 gradi centigradi della costa e i 30 gradi delle aree interne, mentre tra il Sannio e l'Irpinia si potrebbero raggiungere i 32-33 gradi centigradi, venti deboli mediamente occidentali e mare calmo al mattino con lieve aumento del moto ondoso nel corso del pomeriggio. Mentre per quanto riguarda la tendenza della prossima settimana, che cosa ci puoi dire? Nei primi giorni della prossima settimana l'anticiclone africano subirà uno slancio verso l'Europa centrale, con traiettoria occidentale, per cui interesserà marginalmente anche la nostra penisola. Le temperature subiranno un ulteriore aumento, portandosi su valori ben al di sopra della media stagionale. Aumenterà anche il tasso di umidità, con conseguente ritorno a condizioni afose. Una situazione destinata a durare almeno fino a giovedì 25 luglio. Dunque, una nuova ondata di caldo di natura africana interesserà la nostra regione in coincidenza con il soleone, sebbene si rivelerà meno intensa rispetto a quella che abbiamo registrato nel mese di giugno. Per maggiori dettagli, invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.mediosette.it